135 condanni appena comprese tra i 20 anni e i 22 mesi di reclusione per altrettanti imputati nel processo a presunti capi e affiliati del clan Striciuglio di Bari, accusati di associazione mafiosa, traffico e detenzioni di droga e armi, estorsioni a commercianti, lesioni e anche una rissa nel carcere del capoluogo, risalente al gennaio 2016 che coinvolse 41 detenuti con lamette e taglierini e nella quale rimassero feriti anche alcuni agenti penitenziari. Le ha chieste la DDA di Bari. Al termine della requisitoria, nell'aula bunker del Tribunale di Bitonto, le richieste di condanna per i 135 che hanno scelto il rito abbreviato, altri 15 invece rinviati a giudizio. Per 103 imputati le richieste superano i 10 anni di reclusione, tra questi nuovi di spicco come Vito Valentino, Lorenzo Caldarola e Giacomo Campanale che rischiano la condanna più alta perché ritenuti al vertice, secondo le contestazioni, le indagini, quelle dell'inchiesta Vortice Maestrale, che ha ricostruito con 21 collaboratori di giustizia, gerarchie e attività illecite del clan dal 2015 per il controllo del territorio nei quartieri baresi del Libertà, Roccaforto e Storica del gruppo, ma anche San Paolo, San Pio Enziteto, Santo Spirito e San Girolamo e nei vicini comuni di Palo del Colle e Conversano.